La nuova schermata Start di Windows 8 sostituisce completamente il menu Start delle versioni precedenti di Windows. Al posto delle icone, Windows 8 utilizza ora dei piccoli riquadri per raffigurare le applicazioni, denominate anche App. I riquadri della schermata Start possono anche visualizzare notifiche. Ad esempio, il riquadro Notizie aggiorna continuamente i titoli di prima pagina. Per offrire un'esperienza ottimizzata e personale, le app di Windows sono compatibili con gli account online dell'utente, quali ad esempio Facebook, Flickr, Twitter ed e-mail. Alcune di queste app sono foto, musica, contatti, e-mail. Utilizza l'App Store di Windows per il download di altre app. Puoi scaricare app gratuite e puoi provare a usare app a pagamento prima di acquistarle. Gli accessi, una nuova funzione di Windows 8, consentono di accedere rapidamente a strumenti e funzioni. Porta il puntatore del mouse nell'angolo superiore o inferiore destro della schermata per visualizzare gli accessi di ricerca, condivisione, schermata Start, dispositivi hardware e impostazioni.